Buongiorno e benvenuti all'Empoli. Quali sono le vostre prime sensazioni di essere arrivati qua nella nostra squadra e quali i vostri obiettivi futuri? Quali sono le vostre prime impressione per arrivare e i vostri obiettivi futuri? Inizio, buongiorno. Buongiorno. Siamo qui per lavorare ogni giorno, per fare il obiettivo successo. Buongiorno, sono molto felice di essere qui e ci darei 100% che ho avuto per essere il mio migliore. Buongiorno, sono molto felice di essere qui. Per me è importante avere un nuovo progettivo nella mia carriera. Vedo l'opportunità, mi piace la liga italiana, mi piace la squadra. Vedo che sono tre volte con la squadra. È una buona qualità e credo che posso imparare più. No, non si può. Sì. Sì. Quale è la situazione? È non facile. Hai visto la classifica di Mersedice? La tavola. La tavola. Hai visto la tavola? Quali sono le impressioni della Serie A e del contesto? quali sono le risposte che gli aspetali di Mersedice. Ok, sì. Sì, sì. Entendete. E su la situazione, la situazione non è così buona, credo. Non so ne senti cosa pensi. EMPOLI, credo che avremo meglio, ovviamente, lavoriamo ogni giorno con un codice, con tutti qui e tutto è bene, e tutto va bene, e tutto va bene, e alla fine, vediamo. Per me è importante avere un nuovo progetto nella mia carriera, ovviamente non è facile arrivare in Serie A, e vedo qualche gioco della squadra, la squadra gioca molto bene, ma non è sempre facile cominciare una squadra, ma mi piace la situazione, perché non ero in questa situazione prima, e spero che avremo meglio e aiutare. E' una situazione che da qua alla fine sicuramente migliorerà. Bene, a proposito di questo, sapete che siete in uno dei campionati più importanti d'Europa, perché la Serie A, insieme all'Inghilterra, alla Francia, alla Spagna, è uno dei campionati più importanti. Quindi, quanto valore date a questo per la vostra crescita professionale? E' proprio il modo di essere arrivati a EMPOLI, che da sempre, come dicevo ai vostri colleghi prima, è una società che crede nel mondo dei giovani e lancia il mondo dei giovani, da qui sono usciti tanti campioni in futuro. Sì, sapete che essere in l'Italia è una delle più importanti leggi in Europa, quindi, quanto riguarda che essere in l'Italia è importante per la vostra carriera? E quanto riguarda che l'Empoli è un campionato con la loro carriera, quindi, quanto riguarda l'opportunità di giocare e di sviluppare, quindi, quanto riguarda l'Italia è importante per te essere in un campionato come questo? Per me, questa Serie A è una delle migliori leggi del mondo, e io vengo qui per lavorare e per insegnare molte cose. EMPOLI è un campionato, che mi può dare dare questa situazione, sono qui per una settimana, e ho lavorato molto duro, e ho studiato molte cose in due settimane, e spero di giocare, e di succedere tutto, e di succedere tutto in un campionato. Per me, il mio obiettivo, nella mia carriera, era una volta di giocare nella top league, e credo che ho avuto l'opportunità di oggi. Io ho visto il club prima, come si gioca, e mi piace la filosofia del club, è che molti raggiungono, e credo che quando si rende buono, si ha l'opportunità di andare in un'altra buona squadra in Italia. e tutto ciò che vedo dal club mi fa felice, e non credo che ho avuto due volte di venire qui. Non ci ho pensato due volte di venire qua, perché l'opportunità di venire è stata chiaramente un'opportunità importante, perché tanti giovani da qua sono riusciti ad andare in squadre importanti, e era un mio obiettivo quello di giocare in uno dei campionati più importanti d'Europa, ed era, per me è una cosa molto positiva, perché la filosofia del club è una filosofia in cui io mi sposo faccio sempre. Grazie. Grazie. Good morning. Hi. Hi. Good morning. Hi. A question for Brosson. Do you know Empoli? What do you know Empoli? Grazie. What do you know Empoli? Why Empoli, rather than in other team, most important? Per me ho visto la squadra prima e sono un giocatore che mi piace essere in un villaggio che non è così grande ma è calma. Mi piace giocare in una squadra, non è così facile. Per me è più facile essere in un gruppo. Io ho visto la squadra prima, conosco alcuni amici e la mia caratteristica è una buona opportunità e voglio provare. Hai capito? Perché sai Empoli prima di arrivare? Perché hai scelto Empoli invece di altre squadre? Sì, è vero. Io conosco Empoli, ovviamente. E ho scelto Empoli perché Empoli mi chiede. E per questo motivo ho avuto la possibilità di arrivare in Serie A. E sono molto felice di essere qui. È molto bello qui. È una buona squadra. È una squadra per fare il secondo passo. E' vero che hai scelto? Per sicuramente, sono qui per giocare. Non per rimanere in banca, non per rimanere. E ho scelto tutto nel trening. E i coach sono qui per prendere chi gioca e chi non gioca. Grazie. 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 Grazie a tutti. in ogni gioco e per combattere ogni minuto Grazie Quali sono le caratteristiche dove dovete sviluppare più? Per me penso che sono un giocatore e devo scoprire un gol e quando vengo qui ho trainato tre volte con la squadra e il giocatore mi diceva cosa devo fare la ruota, la ruota e faccio la ruota che non ho mai fatto in mia carriera e solo con tre ruota vedo molte cose che ho dovuto apprendere e per me ho dovuto apprendere più tactiche e per aiutare la squadra non prendere i golpi ogni gioco